Natale con l'immondizia per le strade e con i netturbini senza stipendio. E' ormai una certezza visto che 3 milioni di euro anticipati dalla regione siciliana non saranno nella piena disponibilità del lato GESA G2 prima della festa più importante dell'anno. Io mi sono appellata al buonsenso dei lavoratori, mi sono rivolta ai sindacati, mi sono rivolta alle ditte perché ieri abbiamo avuto la conferma da Palermo che c'è in viaggio un mandato a nostro favore che consentirebbe così di erogare a tutti i nostri fornitori una certa percentuale, il 15%. Inizialmente ho chiamato tutte le imprese che garantiscono il servizio per dire loro di fare un ulteriore sforzo e di cercare con questo importo che non è quello che loro realmente avevano richiesto di far trascorrere a tutti un buon Natale. Le ditte dopo varie e accese discussioni avevano anche consentito, però al momento che abbiamo avuto la conferma che ancora questi soldi sono bloccati a Palermo è chiaro che anche loro si sono un po' tirati indietro perché per poter erogare anche una piccola somma ai vari lavoratori avevano bisogno che noi quantomeno sbloccassimo la fattura di giugno perché noi siamo arrivati a pagare loro metà di giugno quindi io mi sono appellata anche ai lavoratori esponendo loro la situazione ma quello che loro rispondono è che senza soldi non ritornano a lavorare. Abbiamo fatto sforzi tutti quanti enormi ma penso che più di questo non si possa fare. Anche stamani nei locali del lato il clima era molto pesante con i netturbini sul piede di guerra e convinti nella loro protesta. Stamattina speravano di poter ricevere la mensilità di novembre e di tornare subito al lavoro ma l'iter burocratico ancora una volta come detto rimane lungo e farraginoso. I sindacati allargano le braccia, non c'è modo per convincere i netturbini ad interrompere lo sciopero. Materialmente i soldi non sono arrivati quindi fino a quando non arrivano i soldi non ce ne sono. Non è la prima volta che avviene, ormai è strutturale, c'è poco da dire. Queste emergenze purtroppo sono continue e il problema non è fare il Natale con i rifiuti in mezzo alle strade ma avere più di 350 persone che non faranno completamente neanche il Natale, né il Capodanno né nulla. Quindi questa situazione ormai è diventata una situazione non di emergenza, ormai è diventata una situazione, parlando propriamente di spazzatura, una situazione proprio sporca, soprattutto sporca perché anche oggi i sindaci che fanno parte del lato erano assenti. Tranne un paio che con molta responsabilità sono venuti, gli altri invece preferiscono forse già gustare il periodo natalizio e del nuovo anno.